cosa è cambiato in questi due anni sui suoni tanto nel senso che nel secondo disco in memoria che appunto è uscito questo anno abbiamo sicuramente dato più valore alla scrittura quindi forse le produzioni hanno fatto un passo indietro mentre l'anatomia cristallo era la produzione allo stesso livello della voce del songwriting forse questa volta no quindi abbiamo messo al centro il concetto no e gli abbiamo dato forma poi mentre prima era che il concetto era anche la forma mentre questa volta la forma ha fatto un passo indietro non so se si possa finire maturità o non lo so forse sì forse forse siamo i quattro amici prendi le tue tre migliori amici o migliori amiche mettile in una sala prove quando hanno nove anni dieci anni e dite bene voi quattro farete musica insieme per sempre no e quindi non è cambiato nulla e forse non cambierà mai nulla arriveremo ad odiarci forse già ci odiamo non lo so non cambia nulla quando hai quel rapporto lì con quelle persone umanamente credo che in generale la geografia gli spazi in cui vivi definiscano molto quello che sei quello che farai o come come sei abituato a vedere e a percepire la quotidianità vivere in provincia di bergamo perché noi effettivamente siamo della provincia non siamo della città e per quanto bergamo sia una città non minuscola appunto ma siamo una provincia quindi se esci dalle nostre case siamo tutti del stesso paese triviolo esci e non c'è assolutamente nulla come un quartiere residenziale ti devi sempre spostare per fare qualsiasi attività qualsiasi roba quindi è un posto noioso ma che forse in questo nel nostro caso forse ci dà il tempo di riflettere sulle cose no che comunque anche perché poi bergamo è un po strano perché è talmente vicino a milano che è come se sentisse sempre addosso il peso di un buco nero no che ti dice tu vieni vieni ti sto corteggiando vieni però tu cioè puoi decidere appunto di andare oddio ho fatto l'università a milano quindi ovviamente quella roba lì fa però quando torni a casa dici ok si può anche fare un'esistenza differente da quella che accade a 40 chilometri 50 chilometri di distanza perché oggettivamente è diverso non è cambiato nulla sinceramente nel senso che non abbiamo pressioni diverse non abbiamo pareri diversi rispetto a quello che noi proponiamo noi arriviamo con delle idee molto chiare forse forse la roba necessaria utile è avere le idee chiare personali poi devi andare dagli altri come sempre nella vita come in ogni roba e convincerli che quella idea lì è giusta ma non c'è non abbiamo notizie assolutamente strane da raccontare anzi anzi c'è sempre un dialogo molto sincero corretto forse anche perché pretendiamo e l'abbiamo detto dal primo istante che la musica fosse messa prima tutto il resto sì è necessario è fondamentale ci pensiamo tantissimo a come viene comunicata una roba perché è guai è parte fondamentale ma la musica sta prima se no non faremo musica no quindi no non è mai cambiato nulla fieramente devo dire c'è questo disco l'abbiamo consegnato così l'abbiamo proposto così ed è uscito così con tanti pezzi con quei suoni lì con testi magari non da classifica non tante robe mai nessuno ha detto questa cosa non va bene anzi ci supportano quindi bene grazie a tutti Grazie a tutti.